Curare la rinite allergica con 5 rimedi naturali La rinite allergica è una condizione che si produce spesso a causa dellirritazione delle mucose nasali. Tale stimolo è causato da fattori esterni come la polvere e il polline, ma si verifica anche in caso di bruschi cambiamenti di temperatura. I suoi sintomi includono una fastidiosa congestione che impedisce di respirare con normalità, oltre a costanti starnuti, occhi irritati e mal di testa. . Sebbene nella maggior parte dei casi si sviluppi in modo lieve e occasionale, molti pazienti devono chiedere un aiuto medico perché il problema diventa cronico. . Per fortuna, oltre ai farmaci convenzionali, vi sono alcuni rimedi di origine naturale le cui proprietà aiutano ad alleviare i sintomi della rinite. A seguire vogliamo condividere i 5 rimedi naturali più efficaci per curare la rinite allergica. . Rimedi naturali per curare la rinite allergica. Gel di aloe vera. . Il gel di aloe vera è un rimedio ricco di nutrienti essenziali che rafforzano la salute del sistema immunitario. Il suo elevato contenuto di composti antinfiammatori e calmanti riduce l'allergia e crea una barriera contro i microrganismi infettivi. . Ingredienti. 5 cucchiai di gel di aloe vera, 75 g, ½ tazza di acqua, 125 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g. Preparazione. Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e lavorateli fino a ottenere un frullato omogeneo. . Bevete la bevanda in presenza del primo sintomo di rinite. Nota, evitate di consumarlo in eccesso, poiché ha un effetto lassativo. . La radice di zenzero contiene oli essenziali con proprietà antistaminiche ed espettoranti, idonee per calmare i sintomi della rinite allergica. L'infuso di zenzero rilassa i condotti nasali e, di conseguenza, calma il mal di testa. . Ingredienti. 1 cucchiaio di zenzero grattugiato, 10 g, 1 tazza dacqua, 250 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g. . Preparazione. Aggiungete lo zenzero grattugiato in una tazza dacqua bollente e lasciatelo riposare coperto per 15 minuti. Filtrate la bevanda e addolcitela con un cucchiaio di miele. Bere due tazze di infuso al giorno fino a calmare i sintomi. . Gli antiossidanti del tè verde frenano la produzione di istamina nell'organismo e alleviano i sintomi della rinite. Si tratta, dunque, di un ottimo rimedio per curare la rinite allergica. Rilassa i condotti irritati e frena la congestione causata dall'eccessiva produzione di muco. . Ingredienti. 1 tazza dacqua. 250 ml, 1 cucchiaino di tè verde . Preparazione. Riscaldate una tazza dacqua e, una volta aggiunta a ebollizione, aggiungete il tè verde. Lasciate riposare dai 10 ai 15 minuti e filtrate. Bevete una tazza di infuso in caso di rinite. Una bevanda calda a base di aceto di mele e miele può curare la rinite allergica. . Questo ingrediente biologico contiene composti antibiotici e antistaminici che accelerano la guarigione. Ingredienti. 2 cucchiai di aceto di mele biologico, 20 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g, 1 tazza dacqua, 250 ml. . Preparazione. Diluite l'aceto di mele e il miele in una tazza dacqua tiepida. Consumate la bevanda in caso di congestione o in presenza di qualsiasi sintomo iniziale di rinite. Se necessario, ripetete le dosi due volte al giorno. Frullato di germogli di erba medica. . Le proprietà dell'erba medica bloccano l'azione dell'istamina nell'organismo e, di conseguenza, rilassano i condotti nasali irritati dalla rinite. Questo ingrediente contiene vitamine e minerali che migliorano la risposta immunitaria evitando l'attacco di batteri e virus. Ingredienti. 3 cucchiai di germogli di erba medica, 30 g, ½ tazza dacqua, 125 ml, 1 cucchiaio di miele, 25 g. Preparazione. Mettete i germogli nel frullatore e frullateli con l'acqua e il cucchiaio di miele. . Bevete il frullato quando iniziate a notare i primi sintomi e ripetetene il consumo due volte al giorno. Se vi piace, consumatelo a digiuno tutti i giorni per prevenire le allergie. . Non sapete come curare la rinite allergica? Cercate di mantenere l'ambiente privo di polvere e prodotti chimici aggressivi, in aggiunta, assumente i rimedi citati. . .